bentornati alla rubrica che vi racconta finanza economia in parole povere e senza conflitti di interesse perché nessuno vuol vendervi o farvi comprare nulla buone notizie da jackson hall dove dalle dichiarazioni di jaron powell capo della federal reserve sembra che finalmente i tassi cominceranno a scendere anche negli stati uniti dal mese di settembre come abbiamo detto in molti episodi vediamo in dettaglio di che cosa si tratta dopo la sigla e vi ricordo che da questa settimana tornano le azioni in cui investo a titolo personale per gli iscritti al supporters club del podcast e nelle newsletter per gli abbonati a pagamento la finanza in soldoni è un progetto che promuove la gestione razionale della finanza personale attraverso un podcast una newsletter e una serie di video sul canale youtube di massimo famulano la oltre alla rubrica money flash per associazione liberi oltre le illusioni commenti like risposta su youtube aiutano la rubrica a continuare che cosa è successo allora è successo che a jackson hall che è una località negli stati uniti si è tenuto come ogni anno un convegno molto importante al quale partecipano tutti i principali banchieri centrali questo evento è diventato un punto di riferimento perché dalle dichiarazioni rilasciate nel corso di questo evento generalmente si ha un'idea di quella che sarà l'indicazione della politica monetaria nel corso dell'anno e soprattutto anche di quello che poi saranno le conseguenze per i mercati e per l'economia quest'anno il presidente della federal reserve ha lasciato intendere che finalmente il percorso di riduzione dei tassi potrebbe cominciare già dal mese di settembre e questo ha alimentato già un certo entusiasmo sui mercati finanziari ma che cosa era successo prima facciamo un veloce riassunto le puntate precedenti non per chi segue questa rubrica da tempo perché come sapete diciamo in realtà di queste cose abbiamo parlato in modo diffuso due anni fa era tornata all'inflazione e le banche centrali hanno dovuto aumentare repentivamente i tassi di interesse questo ha reso più costoso indebitarsi più pesante per gli stati che hanno elevato debito come l'italia far fronte diciamo chiaramente al rimborso di interessi sul debito pubblico e ha rallentato in parte l'economia l'obiettivo era quello di diciamo impedire una crescita incontrollata dell'inflazione e sembrerebbe che l'obiettivo sia stato in parte già raggiunto sia in via di raggiungimento perché a questo punto i tassi di interesse il rialzo dei tassi di interesse che è la politica monetaria restrittiva e che quindi diciamo rallenta l'economia si è fermato lo scorso anno quindi i tassi hanno raggiunto dei massimi sono fermi dallo scorso anno e hanno ricominciato a scendere in particolare in europa a partire con la banca centrale europea a partire dal mese di giugno e probabilmente cominciano a scendere anche negli stati uniti dal mese di settembre lì abbiamo visto che c'era anche un tema di opportunità perché ci sono le elezioni poi nel mese di novembre e in genere vicino alle elezioni si tende a non modificare i tassi che cosa comporta questo per i nostri risparmientori comporta che la discesa dei tassi a breve termine generalmente comporta una riduzione delle rate a tasso variabile quindi quelle ad esempio collegate all'oribor man mano che i tassi scenderanno dovrebbero ridursi comporta una diciamo impulso positivo all'economia e vediamo che ne ha bisogno l'europa in particolare in europa la germania che si trova già in recessione e tra l'altro l'impulso positivo da parte della politica monetaria potrebbe riflettersi anche nei mercati azionari che cosa dobbiamo tenere a mentre noi come risparmiatori come abbiamo detto come ho detto in questa rubrica tante volte quando i tassi di interesse scendono i prezzi delle obbligazioni salvano quindi chi le ha acquistate potrebbe adesso ottenere un guadagno in conto capitale rivendendole sul mercato secondario questa opportunità è stata ampiamente descritta in questa rubrica negli anni quindi non è una novità per chi segue la rubrica e quindi chi diciamo ha seguito questa indicazione questo suggerimento adesso man mano che i tassi scenderanno potrebbe anche ottenere dei guadagni il mercato monetario offrerà dei rendimenti più bassi ma sarà più bassa anche l'inflazione che abbiamo spiegato tante volte erode il potere di acquisto della moneta quindi in generale siccome è improbabile che poi i tassi tornino a zero come abbiamo visto negli anni precedenti alla pandemia una diciamo gestione della liquidità sul mercato monetario cioè con le obbligazioni a breve termine continua ad essere un'opportunità che potrà rimanere interessante anche per i prossimi anni e anche questo si tratta diciamo di un riepilogo perché l'abbiamo detto tante volte dunque oggi l'investimento in obbligazioni volendo potrebbe innanzitutto cavalcare il ribasso dei tassi e quindi portare a dei guadagni nei prossimi mesi ma potrebbe anche fermare per qualche anno diciamo bloccare tassi elevati perché poi in futuro i tassi saranno più bassi quindi diciamo per ottenere questo beneficio bisogna comprarli in passato le obbligazioni o comprarle ora si tratta tutte diciamo di vicende abbastanza note a chi segue questa rubrica perché l'abbiamo visto tante volte per riassumere le notizie a jackson hall confermano quello che avevamo detto da tanti mesi e che era noto abbastanza a tutti cioè i tassi di interesse scenderanno la notizia più di dettaglio è che forse il primo taglio ci sarà a settembre i più ottimisti addirittura sperano in un taglio da 50 punti base ma insomma è un po' il solito eccessivo ottimismo dei mercati è molto più probabile che il taglio sia da 25 il nuovo corso della politica monetaria offrirà l'opportunità di registrare guadagni a chi ha acquistato obbligazioni e per sapere di questa opportunità non dovete fare altro che seguire la rubrica perché abbiamo visto tante volte inoltre l'impulso positivo derivante della riduzione dei tassi potrebbe avere effetti anche sulla crescita dell'economia e sull'entusiasmo dei mercati azionari anche di questo abbiamo parlato tante volte ricordo che il contenuto del podcast e della newsletter non va inteso in nessun caso come raccomandazione di investimento o come consulenza finanziaria per le soluzioni di formazione personalizzate o anche per valutazioni gratuite della vostra posizione potete scrivere a mfamularo blog che ho c'è gmail.com e ricevere dettagli sul servizio di financial coach questo è quanto vi do appuntamento al prossimo episodio